E passiamo al terzo anno che ci porta agli anni... Agli anni tretta! Agli anni tretta e... Una canzone anche questa, famosissima, il titolo lo possiamo anche dire, si chiama Over the Rainbow ed è una versione fatta da un cantante hawaiano che purtroppo è già scomparso, comunque sarà eseguita da Massimo... Da Massimo Gioda e tra l'altro, secondo me, crea questo brano anche un'atmosfera molto molto dolce. Siamo passati da uno swing a un brano invece un pochino più dolce che ci sta. Quindi avremo questi picchi di energia pura invece a poi a brani un pochino più... Certamente. Il solista di ukulele, che è quella chitarrina hawaiana che tutti conoscerete, che accompagna Massimo in Over the Rainbow è Filippo. Buon ascolto! Un applauso fortissimo! A presto! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 Grazie a tutti